benvenuti nella sila un'oasi verde nel cuore della calabria un luogo dove la natura incontaminata regna sovrana e dove il tempo sembra scorrere più lentamente prima di iniziare vi chiedo di lasciare un semplice like se vi piacciono questi contenuti e di iscrivervi per non perdervi i prossimi grazie mille e buona visione partiamo col dire che la sila è un luogo dove la natura e l'uomo convivono in armonia un patrimonio da proteggere e valorizzare per le generazioni future camigliatello silano con la neve è uno spettacolo indimenticabile un vero e proprio paese delle meraviglie invernali la neve trasforma questo borgo montano in un paesaggio incantato perfetto per gli amanti degli sport invernali e per chi cerca una fuga dalla frenesia quotidiana ogni anno camigliatello si anima con la sua rinomata sagra del fungo un evento che celebra il prodotto principe dei boschi silani il porcino per diversi weekend le vie del paese si riempiono di stand che propongono specialità a base di funghi troverete formaggi caldarroste e molto altro la sila in estate è una meraviglia con i suoi boschi rigogliosi i laghi cristallini e le montagne maestose offre un'esperienza indimenticabile per gli amanti della natura e non solo si può fare trekking e mountain bike escursioni a cavallo visitare il lago cecita distante da camigliatello solo pochi chilometri dove troverete i tavoli sotto la pineta per potervi rilassare o cucinare all'aperto il parco nazionale della sila ospita diversi musei naturalistici che offrono un'esperienza unica per gli amanti della natura e per chi desidera scoprire le meraviglie di questo territorio è un'esperienza Passeggiando troveremo i recinti faunistici un'attrazione unica per grandi e piccini. Si ha l'opportunità di osservare da vicino alcune delle specie animali come caprioli, volpi, lupi e molto altro. Qui troveremo testimonianze dell'estrazione della pece, che rappresenta un capitolo importante della storia economica e culturale di questa regione. Oggi questa antica attività è quasi scomparsa, ma rimane un'importante testimonianza del legame tra l'uomo e la natura. All'interno del Museo Naturalistico potremmo ammirare gran parte della flora e fauna. Il museo offre un'esperienza coinvolgente e educativa, svelando i segreti della fauna e della flora silana. Attraverso diorami, pannelli informativi e una ricca collezione di reperti potrai scoprire la fauna vista da vicino con esemplari imbalsamati di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi tipici del territorio, dai maestosi lupi. Ogni angolo del museo è una sorpresa. All'interno del museo La Sila è il posto perfetto per ritrovare se stessi e ricaricare le energie. Lasciatevi conquistare dalla sua bellezza selvaggia e dalla sua pace interiore. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi per vedere i prossimi. Grazie mille. Grazie mille.